Quanto è importante la strategia nel lavoro del regista? La strategia è fondamentale nella professione del regista e si applica su diverse cose. Si applica sia sull'approccio alla storia, cioè come racconto la storia attraverso l'immagine, il suono, il lavoro con gli attori, come preparo il pubblico ad arrivare a un punto centrale all'evento cardine della storia, arrivare preparati all'essere o non essere, al momento importante, quello empatico, quello fondamentale, che risolve tutti i nodi che si sviluppano all'interno della sceneggiatura, che ovviamente prima devi comprendere. In questo senso quindi non è solo un utilizzo dei media, una trasposizione letteraria della sceneggiatura, ma c'è proprio in questo un piano, appunto una strategia per raccontare in un certo modo quella storia, nel scegliere quell'immagine con quella luce, con quel vestito, con quel colore, con quella situazione e allora ti preparo, a te pubblico, a ricevere quel momento speciale. L'altro aspetto è con la troupe, con la troupe ovviamente con l'attore, c'è un attore diverso, ovviamente parliamo sempre del lavoro con le persone e ogni persona è diversa, a ogni persona devi sapere cosa dire, in che modo dirlo e con quale dizionario dirlo. Se per esempio siamo nella strutturazione del progetto lavorativo, del progetto delle riprese, come le metto in fila, da che cosa parto, qual è la più importante, quanto tempo predispongo per un certo tipo di inquadratura, un certo tipo di ripresa, come mi relaziono con la troupe sul set. In questo senso quindi vedete che è molto larga, ampia l'aspetto di questa parola all'interno del nostro lavoro, perché noi non possiamo essere solo istintivi, ma dobbiamo avere un progetto, un piano e per averlo bisogna essere strategici.